Il terzo capitolo del terzo libro del De Monarchia di Dante Alighieri prosegue nell'argomentazione precedentemente impostata. Si ricorderà che il capitolo precedente aveva come unico obiettivo quello di fissare una premessa salda e inconfutabile, e tale premessa è quella per cui Dio non approva ciò che ostacola l'intenzione della natura. Ora Dante prosegue in questo terzo capitolo mostrando che bisogna combattere l'ignoranza e che in sostanza occorre evitare che si ammettano cose false. Agli uomini spesso accade, spiega Dante, di essere travolti dalle passioni, di abbandonare la retta via della ragione, con la conseguenza tale per cui si fa strada non soltanto la falsità ma anche l'abbandono della sfera della competenza. Alla soluzione di questo problema si oppongono tre persone, dice Dante. Il Papa con i suoi seguaci, quelli ottenebrati dalla cupidigia, che sono cristiani solo nominalmente, e poi i decretalisti, ossia i falsi teologi, coloro i quali sono seguaci dei decretali, le cui autorità debbono essere posposte a quella di Cristo. Dante si rivolge allora ai veri cristiani che semplicemente ignorano la verità. Non intende rivolgersi a chi è in cattiva fede, ma vuole rivolgersi specificamente a quei cristiani che semplicemente ignorano la verità e quindi possono essere emendati, se vogliamo dire così. Ecco perché Dante a loro si rivolge, dice Dante. Al momento di addentrarci in quest'ultimo problema, conviene sottolineare che la giusta soluzione del primo si era dovuta mettere in luce per eliminare più l'ignoranza che una polemica, mentre la soluzione riguardante il secondo problema era, per così dire, bilanciata fra ignoranza e polemica, perché molte cose noi ignoriamo e per queste non vi è controversia. Come il geometra non trova la quadratura del circolo eppure non ne fa oggetto di controversia, il teologo non conosce il numero degli angeli, ma non ci crea su una polemica, un egiziano nulla sa della civiltà degli sciti e non per questo ci impianta una questione. Ecco perché, dice poi Dante, contro la soluzione che noi cerchiamo si impegnano con tutte le forze tre categorie di persone. Sono tre categorie di persone non emendabili, se vogliamo dire così, e non è a loro che Dante si rivolge, se è vero come è vero, che egli si rivolge invece ai cristiani in buona fede che però ignorano la verità. In primo luogo, dice Dante, annoverando il sommo pontefice in queste tre categorie di persone, è il sommo pontefice, vicario di nostro Signore Gesù Cristo e successore di Pietro, verso il quale siamo debitori non quanto verso Cristo, ma quanto verso San Pietro. Forse per attaccamento alle chiavi, e con lui altri pastori del greggio cristiano, e poi altri ancora, mossi, credo, solo da sollecitudine per la madre chiesa. Tutti questi parlano, per zelo come ho detto, non per superbia, contro quelle verità che io mi accingo a dimostrare. Cioè appunto il Papa e i suoi adepti si oppongono all'idea che l'imperatore possa essere direttamente dipendente da Dio e non dal Papa stesso. Taluni poi, scrive Dante, la cui per vicace passione ha spento la luce razionale, e mentre hanno come padre il diavolo si professano figli della Chiesa, non soltanto muovono su questo tema una polemica, ma per orrore del nome di un principato che è sacrosanto, non avrebbero ritegno a negare i principi su cui si impostano questo problema i precedenti. E poi vi è la terza categoria, i cosiddetti decretalisti, che di giugni e ignari di teologie e di qualsiasi filosofia, puntando con tutte le loro energie sui decretali, che io senz'altro stimo degne di venerazione, forse perché fanno assegnamento sul trionfo di quelle, vanno negando l'autorità dell'impero. Ecco, queste tre diversissime categorie, il Papa e i suoi seguaci da una parte, i decretalisti, e poi in mezzo abbiamo visto coloro i quali respingono con forza, quasi fossero figli del diavolo, e anche se si dicono cristiani, l'autorità dell'impero, ebbene tutte queste categorie respingono l'autorità dell'impero. E dice Dante, non è a loro che mi rivolgo, escludere in massa costoro dal nostro arringo, dice Dante, non mi rivolgo a loro, mi rivolgo invece a coloro i quali, pur mossi da qualche zelo per la madre chiesa, non conoscono ancora la verità a cui noi miriamo. Con essi io scendo in lizza in questo libro per salvare la verità, ispirato da quella reverenza a cui un figlio devoto è tenuto verso il padre e verso la madre, devoto in questo caso a Cristo, devoto alla chiesa, devoto al suo pastore, devoto a tutti quelli che professano la religione cristiana. Grazie. Grazie.